Parto con i ringraziamenti al settore patrimonio della Regione per aver creato questa occasione che per noi l'ufficio gestione amministrativa e valorizzazione strategica del patrimonio della provincia di Parma è veramente utilissima per cominciare a fare un po' sintesi, mettere a sistema quelle che sono tutte le realtà, le situazioni per tornare poi attraverso l'ufficio questo settore patrimonio culturale della Regione ad avere ulteriori suggestioni per andare avanti. Io come sono Simona Sabbadini e oggi sostituisco il mio dirigente che come dicevamo ha avuto dei contrattempi e sono la responsabile di questo nuovo ufficio che inizia a lavorare a seguito di una nuova organizzazione all'inizio del 2021, quindi affianchiamo la nuova organizzazione regionale diciamo però esattamente e ha un obiettivo, si propone di affiancare, ha una gestione quella che necessariamente è da sempre stata portata avanti per il giardino della Regia di Colorno, quella gestione manutentiva e l'ottica prettamente di mantenimento, conservazione, tutela e messi in sicurezza anche un impulso più strategico, più di sviluppo molto in sintonia con le esigenze del territorio, questo perché il nuovo ufficio viene inquadrato nella realtà più di programmazione territoriale, di sviluppo territoriale e a fianco di tutto quello che è il settore lavori pubblici, quindi deve essere capace di percepire e sentire tutte quelle che sono le esigenze anche di installazioni turistiche, di reti che nel territorio possano far capo anche al patrimonio provinciale per poter svilupparsi. Allora partiamo, io chiudo Rivalta, ringrazio intanto anche, dunque vado, chiudo tutto e passo qua e parto con Sabadini qua e ci sarà una prima nostra cartella, ecco che, ok, F5, ecco, no, sì, no, così. Allora, dicevamo, il giardino storico della Regia di Colorno tra passato e futuro, una sfida strategica di valorizzazione del patrimonio. Come responsabile voi vi direte, è un architetto? No, non sono un architetto, non sono un botanico, non sono un agronomo, sono neanche un ingegnere, che adesso sono molto importanti, però rappresento un po' una visione che in questi anni ha accompagnato lo sviluppo di questo giardino, da burocrate, da amministrativo, che però si è resa conto della complessità della gestione del patrimonio, perché oltre alla Regia e al Giardino di Colorno questo nuovo ufficio si trova a dover affrontare tematiche veramente impegnative, legate a strutture patrimoniali molto varie articolate. Passiamo dalla Regia e dal Giardino alla struttura alberghiera di Prado Spillo, passiamo nell'Appennino, quindi passiamo al recinto faunistico del Montefuso, insomma delle realtà veramente diverse. La Regia e il Giardino storico hanno questa peculiarità e questa importanza della storicità e della tutela e della complessità, che adesso io vi vorrei brevemente, tenendo un po' d'occhio l'orario, vi prego di farmi segno, se mi dilungo troppo, ma insomma non penso. Partiamo allora dalla bellezza, vi facevo vedere uno spezzone di un filmato che ha accompagnato la mostra delle porcellane e che così, per chi non conosce il Giardino della Regia di Colorno, è abbastanza significativo. Inquadra la Zelkova, che stamattina ho sentito citare in più occasioni, cioè l'albero monumentale. Inquadra il parterre, che è stato invece oggetto più di discussioni, perché è stata questa rivisitazione, riqualificazione del Giardino agli inizi degli anni 2000, che al momento non è particolarmente, stamattina dicevo, nelle varie interventi non è stata giudicata. E poi si vede in lontananza il parco, che noi chiamiamo parco romantico, che dell'Ottocento, che al momento è quello che, tornando invece all'inizio della mattinata, al PNR era quello che volevamo più valorizzare. La nostra candidatura, come è già stato detto, non è stata, non è andata a buon fine, ma ci ha permesso, ed è questo che vi illustrerò brevemente, le caratteristiche del nostro progetto, di mettere a fuoco le esigenze, anche per i prossimi anni. In ogni caso, di poter agire per stralci, eventualmente, sempre avendo i fondi, insomma sostanzialmente trovando i fondi necessari, e comunque evidenziare anche quelle che sono, non solo le esigenze tecniche di sicurezza, di manutenzione, ma anche quelle che arrivano dalla comunità dei fruttori del giardino, che sono elementi da non sottovalutare. Vado a farvi vedere il filmato. Questo filmato ha mandato un po' in... ha messo in difficoltà i nostri tecnici. Allora, quella che era lo spirito dell'ufficio è quello di fare sintesi, e sintesi è un po', cioè unire la dinamica di manutentive con quelle di sviluppo, sintesi anche di una complessità che ha caratterizzato la storia del giardino di Colorno. Non neghiamolo, non è semplice. Ricostruire anche per piccoli... vi do degli spunti, anche perché la platea è di... indubbiamente di esperti, professori e studiosi che hanno nel tempo acquisito delle competenze, una conoscenza veramente approfondita del giardino della regia di Colorno. Quindi io qui mi sono limitata a sovrapporre delle suggestioni di quelle che sono state le caratteristiche nei secoli del nostro giardino. Quindi dalla rocca feudale al giardino del Settecento. Qua notati già immediatamente la famosa zampada oca o il ventaglio verso l'infinito che caratterizzava e che è ancora benissimo visibile nelle terrazzamenti dall'alto ovviamente della campagna e dell'agricoltura colonese, nonostante sia stata densamente antropizzata e riempita di abitazioni. Qua vedete le varie successioni del giardino, però mettevo in evidenza semplicemente i tre momenti fondamentali che sono il giardino alla francese, dei farnese, quindi col bibiene e le delizie farnesiane, che sono delle incisioni su carta conservate in parte all'archivio storico, in parte alla biblioteca palatina nell'ambito dell'area complessa monotale della pilota di Parma, che sono veramente dei documenti importanti, incisioni su carta che rappresentano il fulgore, lo splendore del giardino in epoca farnesiana. Siamo quasi alla fine del Seicento e agli inizi del Seicento, perché un grande Francesco sarà, dopo Ranuccio, il duca che più si interesserà del giardino e arriveremo al massimo del, passate nel termine, della creatività settecentesca, nel senso che avremo dei giochi d'acqua strappitosi, di una grotta incantata, degli automatismi, quindi siamo veramente un attore d'acqua, un'ingegneria idraulica che per il Seicento era veramente quasi diremmo eccezionale. E da qui arriviamo poi alla seconda metà del Settecento, col giardino dei Borbone, ovviamente dietro alle quinte si giocano eventi di portata europea molto importanti, cioè le più grandi dinastie si dividono il potere anche a spese della regia di Colorno, cioè è oggetto attraverso i matrimoni, attraverso le, è oggetto di mire e di successioni dinastiche che rendono molto interessante anche il giardino, perché poi a seconda del duca e dell'interesse del duca per il verde e per il paesaggio, il giardino potrà beneficiare oppure essere abbandonato, essere dimenticato più che abbandonato e quindi questo provocherà poi dei danni che alla fine risulteranno, più che danni porteranno a quello stato, un po' di abbandono che imporrà, diceva, che imporrà un ripensamento anche se dibattuto, ecco non di semplice gestione. Quindi qua vedete i nomi dell'Isle Petitore, progettisti di grandi architetti particolarmente rilevanti, impegni, insomma importanti su cui non mi soffermo, arriviamo all'Ottocento e al giardino di Maria Luigia che si avvale della giardiniera del Barvizius, i giardinieri che accompagnano i duchi nei vari progetti di paesaggio del giardino sono delle personalità, delle eccellenze delle scuole dei giardini d'Europa, che da Parma guardano, ritorno ancora a citare Versailles, di cui un po' tutti si, come dire, indicano come il modello, per coloro c'era esattamente una della documentazione e soprattutto tornando indietro dell'Isle era il giardinieri di Versailles. Quindi la, se non paternità però, il collegamento con l'Oltralpe e con la Francia è decisamente accertato. E quindi, ecco, io ho fatto una rapidissima carrellata per dire tutta l'importanza e la rilevanza del giardino. Arriviamo però alla fine dell'Ottocento, l'Unità d'Italia, 1870 la provincia di Parma acquissa per 100.000 lire la reggia e il giardino. Per cosa? Per farne la sede, soprattutto, dell'ospedale psichiatrico. Che dire, è un aiuto, è molto interessante leggere l'atto di compravendita scritto a mano perché si riferisce ai meschinelli che avevano bisogno di aria salubre e sarebbero i malati dell'ospedale psichiatrico che dovevano essere, da Parma dove non erano sufficienti gli spazi per ospitare questi ammalati, vedono in Colorno uno spazio sufficientemente grande per poterli anche restare bene all'aria aperta e quindi il giardino era una parte molto importante di questa realtà. Quindi la provincia acquista il giardino e anzi, volevo tornare indietro per farvi vedere quello che succede poi nei primi del Novecento, cioè quelli che abbiamo chiamato gli usi impropri del giardino perché in queste foto che forse riusciamo a visualizzate, ma forse neanche bene, si può vedere l'uso dell'ipodromo per cui è stato utilizzato il giardino, a cui era seguito anche il velodromo per le biciclette e poi avevamo un... questo potete vedere l'orto di guerra dove coltivavano le patate, sono delle foto molto significative, c'è una collezione di foto storiche raccolte da parte di Franco Piccoli che è molto vicino insomma alla storia del giardino, tutta la comunità di Colorno è veramente molto legata a questa realtà. Questi usi impropri degenerano fino all'uso del parterre come campo da calcio, quindi ho già detto tutto, quindi quando la provincia alla fine degli anni Ottanta dovrà cominciare a mettere mano ai lavori di rifacimento delle fondazioni, delle facciate, delle torri, quindi dal punto di vista dell'architettura e del palazzo, alla fine, cioè alla fine, arriviamo alla fine degli anni Novanta, penserà, valuterà, comincerà ad interrogarsi sul giardino, è l'ultimo passaggio, l'ultimo tassello di lavori veramente importanti che hanno interessato la reggia. Non vi ho detto che il giardino è di 11 ettari, per chi non lo sapesse siamo a 20 chilometri da Parma, quindi è collegato insomma al capoluogo. Potete vedere come era prima, ecco, siamo fino agli anni 90, inizio anni 2000, come era prima e quella che è stata la scelta. L'assessore Buttarelli, capofila Giovanni Buttarelli, ora scomparso, riteneva molto, crede molto in questo progetto, si affianca di vari esperti. Potete, mi rimando se siete interessati a un interessante documentario di Luigi Simeone, che ancora oggi si può ascoltare anche su Facebook, di immediata 45 minuti che traggono la storia del restauro e della riqualificazione, non so, forse qualcuno direbbe ricostruzione. Ecco, questa ricostruzione del giardino di Colorno che è stata veramente impegnativa, oltre ai fondi, cos'era, oltre un miliardo di vecchie lire, per attenersi ai disegni sostanzialmente del Settecento, del Delisle e Petitot, interrogandosi però, ecco, gli interventi non erano stati fatti senza porsi il problema da che, in che direzione andiamo, cosa facciamo, e in questo documentario Spagnoli, l'architetto paesaggista che segue queste operazioni se lo chiede. Dice, noi al momento in Italia non c'è una cultura del paesaggio, del giardino, della ricostruzione così consolidata, quindi un po' siamo in difficoltà, però alla fine decidiamo di affidarci alla natura in primis, cioè far parlare la botanica che è ancora di presenti e poi anche al bello, cioè possibilmente gli architetti che hanno lavorato per questo giardino hanno sempre cercato qualcosa di bello, quindi noi ricostruiamo, questa è stata la sua linea, una proposta per i visitatori possibilmente bella su disegni originali. Dopodiché si viene a creare quella situazione che era già tipica del giardino della regia di colonne degli anni precedenti, cioè giardino alto sotto lo scalone della regia formale, la francese, scalone verso il parco romantico, quindi giardino basso e poi giardino romantico che in altri tempi andava all'infinito, quindi andava verso quello che si chiamava la riserva di caccia prima ancora nel bosco di Malzabue, il serraglio, dove andavano a cacciare sostanzialmente i duchi. Vado avanti velocemente per dire che questo restauro, discusso, accettato, accolto, comunque molto impegnativo, farà sì che la provincia, anche l'amministrazione provinciale, cominci però a mettere più a sistema azioni di valorizzazione, perché se prima era un prato verde, poco significativo, ci giocavano a calcio, era più difficile strutturare delle azioni di valorizzazione, che forse dalla catalogazione a una mostra di valorizzazione e quindi ha iniziato dopo questo importante restauro, come vedete, a assegnare al giardino delle funzioni più specifiche, questo anche sentendo, che è un elemento che contraddistingue continuamente la storia del giardino, sentendo la comunità di Colorno, come vedete sulla sinistra la cavea dove viene rappresentata l'opera d'estate, la mostra al mercato del giardinaggio di qualità che nei primi anni 90 permette alla provincia anche di stabilire un rapporto con la fiera di Corsone in Francia, quindi un gemellaggio importante, cioè avere sistemato al positivo che crei più azioni e quindi politicamente come strategie trovi una strada che ti aiuta per fare degli interventi e delle attività. Non sono entrata nel merito della botanica, ma vedete che c'è questo disegno, lo stemma fatto con sepi di bosso, affiancato dal verso di Carpino e nel semicerchio finale, oltre alle fontane che vengono ripristinate con tutta un'opera di rifacimento impegnativo, ci sarà la vaseria di Agrumi che doveva anche qua ritiamare quelli che erano un po' gli aspetti del progetto semplicentesco. Ecco, tutto questo da fare, però vorrei chiedervi l'attenzione, guardate tra il 2013 e il 2019 cos'era il parco dell'inglese, quindi chiusura assoluta di quest'area perché è assolutamente non percorribile e problematica per la fruizione di tutti. La ledera di fronte a tutto ciò è il male minore, che però siamo arrivati anche a fare queste pulizie, ma qua si vedono tronchi caduti, insomma è veramente una situazione impegnativa, che in questi ultimi anni anche a fianco di quello che è stata nel frattempo l'evoluzione delle province e quindi una revisione delle funzioni con anche una perdita di quelle che erano precedenti possibilità di spesa in campo del turismo o della cultura, che con la legge di revisione istituzionale non abbiamo più, si impone l'attività di tipo manutentivo sia per riaprire il parco alla comunità, che in questi anni è chiuso perché non era assolutamente agibile, e sia però per cercare di fare in modo che possano riprendere le attività più di promozione, che non è semplice quando la situazione è in questo tipo. Qua vi faccio semplicemente vedere come dopo la pulizia, prima della trinciatura annuale, dopo la trinciatura annuale, con questa slide è un po' al centro di questa presentazione perché vuole essere un po' una sintesi di quello che è successo prima e poi guardare anche avanti. Ad oggi siamo in grado di, con i fondi del bilancio provinciale, data la possibilità di agire in termini di funzioni e quindi di budget collegato al bilancio, nel fare una manutenzione che, ecco, in qua mi ricollego a quello che è stato detto stamattina, cioè l'importanza della catalogazione e dell'avere un patrimonio ben documentato. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Questo non sembra, ancora qualche minuto? Un po' allora vado avanti, però abbiamo tutte delle VTA e poi anche un sistema georeferenziato di analisi dell'area su cui potremo investire e attivarci con varie possibilità. Dunque i costi di gestione, ve li dico molto terra a terra i numeri, 100.000 euro all'anno solo per la manutenzione ordinaria, un minimo 50.000 solo per le pompe, per l'idraulica e anche per investimenti straordinari che ce ne sono. Ogni qualvolta, tenete che a un evento, per esempio il giardino della Regia di Colono è interessato ad eventi come Tutti Matti per Colono, recentemente c'è stato, è stato molto significativo. Durante uno di questi eventi, se era lontano dal pubblico, meno male si è staccato un auramo, quindi provate a immaginare il momento critico. Allora vado velocissimo, però la messa in sicurezza ci ha permesso di, questo lo devo dire perché è molto importante, attivare un'audioguida digitale, nel senso che con questa audioguida il visitatore potrà, a pagamento dal gestore della Regia, attraversare il parco in autonomia, non è un'audioguida su supporto, non è un'app, è molto comoda perché ti accompagna in una visita botanica della... Ecco, sulla PNRR cosa posso dire? Per noi era una sfida, come per tanti altri, era un momento dopo 20 anni dalla ricostruzione, rinascita del parterre, rilanciare. Quali erano le esigenze? Rendere ancora più bello la componente vegetale, perché espostare l'utenza dalla zona parterre alla zona del parco romantico che altrimenti viene utilizzata solo come area di passaggio dalla comunità. Invece la comunità deve soffermarsi e soprattutto interrogarsi sul valore di bene culturale, di bene tutelato. Noi a questo volevamo arrivare, a fare in modo che ci sia una maggiore percezione del bello di quest'area. Quindi le fioriture da sottobosco, che adesso qua rapidamente scorro, la creazione del biolargo, la biodiversità, era molto importante perché a volte si riduce a uno stagno e questo non è bello. Quindi l'inserimento, questo era forse un po' un azzardo, ma per noi era importante, di installazioni integrate nel bosco che potessero far soffermare il pubblico, i visitatori anche in serale e poi questo era una specie di petalò da dove poter far fruire e vivere il parco romantico. Prendeva spunto dalle geometrie del parco formale, anche dalla reggia, e proponeva una padiglione, che è questo chiamato Florum, interessante perché da qui si poteva fare formazione, si poteva lavorare come attività di giardiniere, si poteva avere anche un piccolo punto di ristoro. ristoro. Ecco, impianti, va bene, lascio perdere, l'importante è fare quella che diciamo che soprattutto, no, vorrei ricordare, questo il PNR, il giardino in una prospettiva di valorizzazione che è quella sfida da cui il titolo, e cioè che per noi era importante creare delle progettualità su tutto il territorio, quindi al centro, in collegamento con le altre residenze ducali, creare uno studio di fattibilità per piste ciclabili. E anche questo è già in parte finanziato, quindi in un'ottica di questo nuovo ufficio, vedere la reggia e il giardino come croceria di progettualità. Questo è un po' il nostro intendimento.